L'Etiopia, anzi l'Abissinia, come si usava a chiamarla allora, è l'inizio e la fine di molte vicende storiche e politiche italiane. Nel 1935, con l'inizio della guerra di occupazione, scattano le sanzioni contro l'Italia, inefficaci, allora come oggi in tante altre occasioni nei confronti di altri paesi nel mondo. Eppure la guerra d'Abissinia rappresenta uno dei momenti di maggior consenso per il regime fascista. Con la conquista di quello che verrà definito l'impero, il regime e Mussolini sembrano invincibili. Eppure nella vicenda d'Abissinia c'è un retroterra antico. Bisogna fare un passo indietro forse di 40 anni e andare ad una battaglia, una sonora sconfitta per le truppe italiane di 40 anni prima, nel 1896. Parliamo della battaglia d'Adua quando regnava Umberto I e il presidente del consiglio era Francesco Crispi, un mazziniano, un garibaldino che si era convertito al nazionalismo. In quell'occasione le truppe italiane furono sterminate da Menelic, la prima volta che un grande esercito europeo subiva una sconfitta così sonora e così definitiva per le sue truppe. Infatti in quel momento furono accantonate le mire nazionaliste dell'Italia post unitaria. Mussolini con la riconquista dell'Abissinia, con la proclamazione di Vittorio Emanuele III imperatore d'Etiopia, in qualche modo sana quella ferita. Eppure quella impresa bellica che vide un enorme dispiegamento di mezzi, mezzo milione di truppe, moltissime italiane, ma anche tante truppe coloniali. E uso di armi modernissime, tra cui i micidiali e i vietati gas chimici, in qualche modo rappresenta l'anticipazione della seconda guerra mondiale. Poco dopo, sempre nel 1936, inizierà la guerra civile spagnola. Lì, per molti storici, è il vero inizio della seconda guerra mondiale e lo scontro tra le forze della libertà e le forze invece della dittatura più spietata.